guardando nelle visioni notturne ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui la prima lettura è presa dal capitolo 7 del libro di daniele questa domenica sono solo due versetti ma forse è bene prendere qualche parola in più leggiamo infatti sempre al capitolo 7 del libro di daniele nei versetti 9 e 10 io continuavo a guardare quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise letteralmente in aramaico ma anche nella versione greca vegliardo può essere tradotto anche con antico di giorni la sua veste era candida come la neve i capelli del suo capo erano candidi come la lana il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come fuoco ardente un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui quindi c'è uno simile a un figlio d'uomo che viene presentato all'antico di giorni e continua così gli furono dati potere gloria e regno tutti i popoli nazioni e lingue lo servivano il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto c'è un vegliardo allora antico di giorni potremmo dire un padre che dà potere gloria e regno ad un figlio un figlio d'uomo il figlio dell'uomo in questi versetti è la figura della visione di daniele che viene contrapposta alle quattro bestie e che rappresentano tutti i poteri mondiali che stanno rovinando il mondo ecco che in contrapposizione a questi sulle nubi del cielo viene uno simile a un figlio d'uomo un'immagine buona un'immagine dell'uomo per eccellenza è colui al quale l'antico di giorni consegna un potere eterno che non finisce mai il regno del figlio dell'uomo infatti non sarà mai distrutto in questo racconto possiamo vedere una grande somiglianza con un'altra pagina della scrittura ovvero apocalisse al capitoli 21 e 22 l'antico di giorni il padre seduto sul trono che consegna il potere al figlio gesù ed è interessante vedere il modo in cui il padre consegna il potere la gloria e il regno al figlio abbiamo ascoltato dal vangelo di giovanni al capitolo 18 in contrapposizione al modo di governare del padre un passaggio della passione di gesù c'è pilato che interroga gesù e con la sua mentalità chiede sei re ecco pilato sta ragionando con un criterio politico mondano teme che gesù sia un pretendente al trono un rivoluzionario contro l'istituzione gesù invece ragiona su un altro livello risponde infatti a pilato il mio regno non è di questo mondo e usa una particella in greco ec che possiamo leggere non come il mio regno non è non sta qui ma più come il mio regno non viene da questo mondo il mio regno non me lo dà questo mondo quasi a dire il mio regno non me lo dai tu uome cristo allora è re in quanto testimone della verità cioè la regalità di gesù consiste nel portare la rivelazione di dio nel comunicare all'umanità la vita stessa di dio la verità secondo l'evangelista giovanni infatti non si possiede io non ho la verità e sarebbe pericolosissimo anche solo pensarlo ma la verità è la verità è una persona gesù è la verità e gesù che è la verità regna perché dà la vita questo è il modo di governare di gesù figlio dell'uomo figlio del padre la verità è il suo farsi dono in lui vediamo realmente allora a cosa serve un re un re è per il bene del popolo il vero re è colui che fa vivere il suo popolo gesù è veramente re perché comunica la vita di dio al suo popolo negli ultimi secoli abbiamo travisato un poco la festa di oggi proprio perché abbiamo smarrito la consapevolezza e l'esperienza di essere innestati nella relazione tra dio padre e gesù suo figlio se dio è solo quell'essere perfettissimo che sta a distanza nei cieli non potrà altro che avere un monarca un re che governa da un trono sulla terra cristo re dell'universo appunto e davanti ad un re di questo calibro noi uomini non possiamo far altro che essere dei sudditi ecco vedi cosa ha portato allora uscire dalla relazione padre e figlio vediamo nell'apocalisse come questo re sa su un trono il trono per il mondo è qualcosa che divide diciamo infatti salire al trono e ci sale uno solo staccandosi dagli altri per il figlio invece il trono unisce leggiamo infatti in apocalisse 22 3 ma anche in daniele 7 10 che nella città vi sarà il trono di dio e dell'agnello e che da quel trono scorreva un fiume di fuoco nell'antico testamento è un fiume di acqua viva nel nuovo testamento questo fiume viene dal trono del padre e dell'agnello viene allora dalla loro relazione e la loro relazione è lo spirito santo e questo fiume irriga la città giunge fino a noi e nello spirito ciò che arriva a noi è proprio il modo di regnare del figlio la vita stessa di dio è il suo modo di vivere che viene donato all'uomo davanti a questa immagine allora potremmo dire che come vive l'agnello così vive la città e come vive il re così vive anche il suo popolo quando leggiamo la scrittura notiamo come il re non è solamente un rappresentante del popolo si prendiamo per esempio il secondo libro di samuele capitolo 5 versetto 1 il momento in cui davide viene consacrato lei leggiamo vennero allora tutte le tribù di israele da davide a ebron e gli dissero ecco noi siamo tue ossa e tua carne il re è allora il popolo stesso non è come dire uno di noi ma noi siamo lui il popolo è l'estensione della vita del re e se il re di questa città è l'agnello il signore gesù morto e risorto significa allora che anche tutto il suo corpo ha questa impronta tutta la città l'umanità nuova generata dal trono della croce ha nell'agnello il suo modo di vivere la sua via la sua verità la sua vita la nostra umanità è l'estensione della vita dell'agnello allora vuol dire che ogni persona umana è inclusa nell'agnello e l'agnello esprime la verità della nostra umanità siamo tue ossa e tua carne siamo arrivati all'ultima domenica dell'anno all'ultima pagina della storia il futuro ma non è tutto non è solo questo siamo al compimento della storia la sua pienezza che però non sta davanti a noi come avrebbe da credere ma sta in noi è ciò che è già presente e ci attira pian piano possiamo leggere infatti in apocalisse 21 2 che è la città stessa la gerusalemme che sta scendendo pian piano dal cielo e ci attira lei oggi ci viene annunciato ciò che si può gustare già qui come primizia ovvero che facciamo parte di una umanità che dio ha unito a sé quindi non c'è più solitudine lacrime lutto qualsiasi cosa succeda e non è al futuro qui il verbo ma qui ora nel presente dice infatti sempre apocalisse al capitolo 21 versetto 5 io faccio nuove tutte le cose non farò non in futuro ma qui oggi nel presente io faccio nuove tutte le cose come ben sappiamo tutto questo lo viviamo ora nella liturgia il momento in cui tutte le promesse del padre sono divenute sì nel figlio gesù cristo 2 corinzi 1 20 nel figlio che compie l'unico sacrificio a dio gradito ovvero donando se stesso tutto questo lo viviamo nella liturgia nel momento dell'annuncio che diventa un dono un passaggio e si compie in noi oggi la promessa di una fine che è un nuovo inizio di un trono che è sempre espressione di un nuovo modo di esistenza ovvero della comunione il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono dice apocalisse 3 21 come anche io ho vinto e siedo con il padre mio sul suo trono e Grazie a tutti.